Gentili telespettatori, benvenuti al consueto appuntamento istituzionale col sindaco di Nocera Inferiore, l'avvocato Maglio Torquato, al quale do il benvenuto. Cominciamo una chiacchierata piuttosto articolata, ovviamente per un ordine cronologico, mentale più che altro vorrei cominciare sin da questa vicenda della Nocerina perché lei ha detto una cosa che ha colpito l'immaginario collettivo e cioè che ad essere sconfitta non è la città di Nocera Inferiore all'angolo, non è finita la città di Nocera Inferiore nonostante ovviamente tutto quello che ha preceduto la sentenza abbia innescato un polverone mediatico che comunque ha gettato non voglio dire fango ma almeno polvere sulla città di Nocera Inizierei col fare gli auguri alla Nocerina, oggi sono 104 anni, il primo febbraio del 1910 veniva fondato quello che oggi è il secondo club calcistico più antico della Campania La Campania è la seconda regione d'Italia, una delle più popolose, la seconda dopo la Lombardia Quindi iniziamo col fare gli auguri, auguri che possiamo sposare con il fatto che la squadra non è stata radiata Iniziamo col dire questo, la preoccupazione che tutti vivevano, anche chi non è un tifoso praticante, un tifoso morale della Nocerina come il sottoscritto temeva Quindi questa cosa è stata scongiurata, quindi innanzitutto un augurio di buon compleanno alla squadra della nostra città La vicenda della retrocessione, io ho inviato un posto, ormai lo strumento di cui ci si serve, quindi la stampa va un po' a ruota dello strumento del social network dove ho detto Nocera non retrocede C'è stata una vicenda che ha travolto ovviamente la situazione calcistica della squadra Legata a un complesso di situazioni, a partire dal derby con la Salernitana Poi ci sono state le vicende che hanno interessato l'amministratore unico della società Adesso c'è questa sentenza sportiva Una brutta pagina sicuramente Ritengo che la tradizione, come ho avuto modo di dire, la tradizione antica e civile di sport che Nocera Inferiore vive Non può e non vuole essere mortificata, la città di Nocera è a schiena dritta Sulle proprie scelte, nelle proprie valutazioni Credo anche che questa sentenza, che peraltro è una sentenza di primo grado Non possa essere ribaltata o recuperata nei successivi gradi di giudizio E sono discretamente fiducioso Rezza il fatto che la Nocerina esiste ed è viva È una squadra di grande tradizione e soprattutto è presente e vivo il suo mondo sportivo La sua tifoseria, ovviamente a parte che ha potuto compiere eccessi Ma questo lo dirà soltanto la giustizia Non si possono buttare in pasto sentenze e giudizi sommari come abbiamo dovuto vivere invece, nostro malgrado Questa è la ragione per cui io mi sono fatto pellegrino a su emittenti e tv locali, nazionali anche Della difesa del buon nome della città Sbaglia qualcuno che ha detto ma magari il sindaco poteva essere più defilato No, il sindaco benché non sia un uomo di sport aveva e ha il dovere di difendere la reputazione della propria comunità A maggior ragione perché c'è un prima e un dopo Il prima è stato aver buttato la città e la squadra a causa della vicenda del derby In pasto all'opinione pubblica nazionale Quindi c'è stata la difesa legittima, ritengo più che legittima Che il primo cittadino dovesse esercitare Magari mi sarei aspettato, l'ho detto in altre occasioni Non è il caso di ripeterlo ulteriormente, se non oggi ma la chiudiamo qui Che anche altri fossero stati in prima linea nella difesa della comunità sportiva Della comunità della tifoseria, della reputazione della città Sennaco, la sentenza è stata resa nota in un giorno particolare Un giorno in cui al Comune si è svolto un incontro importante con i rappresentanti di RFI Le Ferrovie dello Stato, tanto per capirci Mi piaceva riprendere un'espressione della dottoressa Rita Pisanzio Che è incaricata di questo progetto È un momento topico ed è un momento di inizio Nocera ha l'opportunità di inserirsi in un progetto di respiro europeo Quale Pegasus e non ha intenzione in alcun modo di abdicare Sì, innanzitutto diamo atto a chi sta seguendo questa vicenda Che sono il dirigente di settore, l'assessore ai lavori pubblici In particolare la dottoressa Pisanzio, consigliere delegato di maggioranza E poi c'è stata l'iniziativa di partenza Che è partita da Gino D'Angelo, cui va il mio ringraziamento Vi era anche la presenza dell'onorevole D'Acunzi Come responsabile Arlas Che ha avuto modo di ripristinare questo contatto Con il dottore Bernabè delle Ferrovie dello Stato Qual è il progetto? Il progetto è quello dell'ammodernamento delle strutture ferroviarie Che si sta verificando in tutte le città d'Italia Ovviamente noi parliamo, guardiamo e conosciamo Soprattutto i progetti di ammodernamento delle grandi stazioni Penso a quella di Napoli Ma anche delle stazioni più piccole Nocera è una stazione, uno snodo ferroviario storico Oggi è meno importante a causa delle modifiche E delle politiche di trasporto da parte di ferrovie italiane Delle ferrovie dello Stato Che sono ormai una società privata Una società di diritto privato E l'idea è quella di ripristinare E riqualificare anche con dei service Pensiamo a degli showroom interni O del resto room Oppure l'ammodernamento del piano superiore della stazione Che ricordo sarebbe anche un ritorno all'antico Perché 70 anni fa e passa c'era la tradizione Fino agli anni 50-60 Forse è finito con l'inizio degli anni 60 Questo lo ricordo nei racconti di mio padre E di quelli della sua generazione Il circolo universitario Che faceva lì i festeggiamenti, i buffet Quando c'erano queste belle tradizioni Ecco, questo è un modo anche per recuperare La funzionalità Anche in pieno centro ormai della città Che ormai è sempre più stazione di sosta Di linea metropolitana leggera Servente le due città di Salerno e Napoli Ovviamente ho messo sul piatto del bilancio Un ragionamento più allargato Cioè l'eliminazione degli obbrobri architettonici Che sono il residuo della chiusura dei sottopassi In pieno centro Che sono quelli lateralmente al liceo Vico Da un a lato e dall'altro Cioè su via Gelsi e su via Bosco Loquarelli La cosa che ho chiesto è che Sebbene non rientra nel pacchetto immediato Dei lavori che sono a farsi e da autorizzarsi Per la riqualificazione della stazione ferroviaria Ci sia quantomeno la possibilità di eliminare Quella specie di casematte Che sembrano il checkpoint Charlie Quelli del muro di Berlino Una cosa orribile Di eliminarli e di riportarli in piano Ovviamente non è possibile fare l'apertura a raso Su via Bosco Loquarelli Perché c'è il dislivello Riqualificare i sottopassi Perché per quanto noi cerchiamo di pulirli E manutenirli Abbiamo avuto anche un progetto regionale Ma del piano di zona Sono molto, molto, diciamo così Trascurati anche per l'incuria Di tanta gente che ci passa Chi ci orina dentro Chi ci butta bottiglie Quindi stare continuamente a pulire e sistemare È complicato Quindi una riqualificazione di quei sottopassi Di quello in raso Si parla dell'eventuale chiusura Di quello in coda All'altezza di via Giovane Per cui Ferroviello Stato chiede la chiusura Ma questo è un ragionamento Che può avere un senso Solo se il passaggio pedonale Se non quello carrabile viene garantito Quindi se noi riusciamo a riqualificare Dei luoghi nel centro della città A partire dalla stazione centrale Pensiamo di aver ottenuto un risultato Qualificante per l'aspetto E l'estetica urbana di Nacera Ovviamente questo non dipenderà da voi Come amministrazione L'impegno viene chiesto a Ferroviello Stato Però è disponibile su questo Noi dobbiamo, diciamo Mettere in essere i processi autorizzativi Di carattere urbanistico Credo che ci sia qualche problema Soltanto per la chiusura Della parte esterna Quella del cosiddetto pontillo Lo chiamerei pontile Cioè di quel camminamento coperto Con la pilastratura Che vorrebbero chiudere Con delle vetrate Credo farebbe volume Ma insomma lì si può ragionare Non è un problema È l'abbattimento di qualche barriera architettonica Nella misura in cui ciò Sia tecnicamente possibile Ma penso che lo faremo Questo progetto che l'amministrazione persegue Nel senso che batte la pista Di agguantare a tutti i costi Un'opportunità da non perdere Si inserisce in un ridisegno complessivo Che è quello avviato Con la fase propedeutica al PUC Sì Noi l'abbiamo presentato Abbiamo avuto due incontri L'8 di gennaio e il 20 di gennaio L'8 di gennaio per i soggetti SCA Cioè i soggetti a competenza ambientale Le cui osservazioni sono producibili Entro la data del 10 febbraio prossimo E poi con la presentazione del 20 di gennaio Che ha aperto le forme di consultazione pubblica Non esaurisce le forme di consultazione pubblica Noi contiamo che vorrei essere fiducioso Che per aprile, maggio, insomma Primavera inoltrata Noi potremmo chiudere la fase del preliminare Ovviamente nella presentazione Nel primo incontro Soprattutto ricordo il professore Dal Piez Ha detto una cosa fondamentale C'è una parte di Nocera Pregiudicata da una speculazione edilizia Che risale oramai a decenni fa E che ha cementificato una parte della città Quello che va a salvaguardare No io direi quasi tutta purtroppo E' rimasto qualche residuo di campagne Rispetto alle quali siamo dovuti anche intervenire Anche lì siamo intervenuti Con la mia amministrazione Per vincolare le aree agricole Spuntandola almeno in parte fino ad oggi Su questo rischio Che ci si cementificasse anche lì La verità è che quasi tutto il territorio della città E' stato compromesso da un'edilizia Selvaggia, assurda Completata nell'ultimo decennio E dove abbiamo edificato fino a 10 piani di altezza Cioè è stata una cosa fuori da ogni logica Poi ci si lamenta che quando ci sono le scosse sismiche si ha paura E ma noi abbiamo una paura in più Dovuta alla nostra territorialità Infatti il professore Dal Piez diceva A partire da quella delibera Da quelle due delibera A cui in qualche modo le faceva cenno Quello che resta da fare È preservare l'esistente E valorizzare in qualche modo Quello che ancora resta Immune da questa speculazione di cui parlavamo L'obiettivo è quello di intervenire Sul patrimonio edilizio esistente Io ho già detto in due diverse occasioni Due interviste proprio a questa emittente Ma anche credo qualche intervista a qualche giornale Che l'obiettivo è quello di Di andare Diciamo A tutelare il patrimonio edilizio esistente Prevedendo degli interventi di recupero Su quelle forme di edilizia Anche dove ci sono residui a redismesse Consentire gli interventi dei privati Ma riqualificare il rapporto negli standard Urbanistici di parte che vanno a destinazione pubblica A beneficio della parte pubblica Non c'è assolutamente un atteggiamento ostile Nei confronti dell'imprenditoria privata Ma bisognerebbe che l'imprenditoria privata Faccia comprensione Cioè si renda conto Che è giunto il momento di intervenire Su ciò che abbiamo Perché il territorio è stato occupato Quindi andare ulteriormente a pregiudicarlo Non è possibile Con edilizia speculativa Abbiamo un esubero di vani Che appare ormai di tutta evidenza Per quanto certificato anche Dal coordinamento provinciale di piano Territoriale Un fabbisogno abitativo Che è andato in esubero Bisognerà recuperare il più possibile Sugli alloggi Che possono avere una destinazione sociale Ma sociale vera Cioè che non siano il pretesto A vocazione sociale A speculazione privata Perché sarebbe un'altra storia Abbiamo la questione Montevescovado Che è un problemone Insomma sulla quale Abbiamo stanziato adesso Nell'annuale triennale Opre pubbliche Alcune centinaia di migliaia di euro Per interventi di riqualificazione A tappe Per lo meno Per quello che compete Alla manutenzione straordinaria Che noi dovremmo porre in essere Come comune Nel senso Asfalti Coperture E tamponamento delle vicende Ma in attesa di fare il vero e proprio intervento Su questo credo che dovremmo dedicare L'ho detto nel corso di qualche incontro Con i consiglieri comunali Un'unità specifica Della struttura comunale Per questo problema Non escludendo l'intervento dei privati Perché io credo che Non si possono fare crociate contro i privati Se i privati dovessero giungere Avere una capacità di intervento Sostitutivo di affiancamento Quanto meno Rispetto a quel tipo di recupero edilizio Su Montefescovato Per i prefabbricati pesanti Benvengano Tutto questo ci permette anche Di accendere i riflettori Sul patrimonio comunale L'amministrazione si sta attivando Per la valorizzazione Lo sfruttamento Prendiamo questo termine Nella sua accezione migliore Lo sfruttamento ottimale C'è ancora qualcosa in vendita Che però credo Noi abbiamo rifatto Il bando Adesso è affisso sulle cantonate cittadine Il bando per la messa all'asta pubblica Di parte degli appartamenti Di patrimonio comunale Per un complessivo Di circa 2 milioni di euro Non mettiamo in vendita Il castello del parco Contrariamente a quello Che qualcuno ebbe La dabbinaggine di sostenere Durante la fase commissariale Del 2012 Che resta pubblico Altro discorso È la messa a reddito Certo Abbiamo iniziato a mettere a reddito Qualche struttura Piccola cosa Ma simbolica Per esempio La sala comunale Per il matrimonio O per le cerimonie O per i ricevimenti ufficiali Va pagata Con una tariffa Ragionevole Voglio dire Se uno si sposa Può spendere Una coppia 250-300 euro A manifestazione Anche perché dobbiamo Coprire gli straordinari Basta fare 100 euro A testa Ciascuno delle famiglie Di sposo 150 Quindi siamo veramente A pochissima cosa Chi vuole sposarsi gratuitamente Può farlo Presso gli uffici Di Stato civile C'è da fare altro Adesso rientrerà Nel ragionamento complessivo Con molti servizi Incaricare alcune attività In capo a molti servizi Di manutenzioni murari Cimiteriali Ad esempio Su tutte Perché è un pozzo Senza fondo Anche qui poi c'è il discorso Della revisione Della convenzione Delle convenzioni O di un'unica convenzione A pacchetto Che comprenda tutto dentro Dai rifiuti al resto E poi C'è da valorizzare Per quelle poche strutture Che noi teniamo Prima abbiamo il Diana Che è già sottoposto A regolamentazione Il teatro comunale E a pagamento a tariffa Abbiamo la sala polifunzionale Abbiamo il castello Il castello Che è stato oggetto Di un Vorrei anche definire Questa vicenda Che ha avuto del surreale Perché io mi rendo conto Che alcuni consiglieri Di opposizione O qualche giornalista Non avendo Gran che da dire Vanno a scovare notizie Spesso di due o tre mesi fa Che poi notizie non sono Abbiamo visto su Facebook Lei accennava prima